Cinecittà World, il parco divertimenti alle porte di Roma, si apre al grande cinema con l'inaugurazione di Cine Tour, un percorso tra i set dei Colossal del passato fino ai giorni nostri, tra le nuove attrazioni dell'anno. Stefano Cigarini, amministratore delegato di Cinecittà World. Cine Tour, la nuova mostra di Cinecittà World, è la possibilità di entrare e toccare con mano alcuni dei set che hanno fatto la storia del cinema e di Cinecittà. Si parte da Cleopatra, film del 63 con Richard Barton e Liz Taylor, quattro premi Oscar, si passa attraverso la Cattedrale dei Morti di Viventi, Robocop Terminator e poi per finire nell'antica Roma con un tempio di Erode, un palazzo di Erode bellissimo, sede di un film americano ancora non uscito in Italia, Jesus the Savior. All'inaugurazione erano presenti molti personaggi dello spettacolo, tra cui Caspar Capparoni, Irene Ferri, Ludovico Fremont, Damon Morselli e Maria Monset. Tra le otto novità del 2018, che portano a 30 il totale delle attrazioni, ci sono anche Motori, Ciac, Azione, lo stunt show ispirato ai grandi film action e iFly, la montagna russa che usa un simulatore attrezzato con la realtà virtuale, permettendo di restare a terra. A Cinecittà World entri in un film, tramite i set, come Ben Hur, dove si fa la Corsa delle Bighe, come la nuova Cine Tour, tramite la tecnologia, come nelle attrazioni con la realtà virtuale, la Guerra dei Mondi, per esempio, Labirinto, Guerra dei Mondi dove si entra sul set attaccati dagli alieni, come nel film, oppure tramite gli attori, per esempio la Horror House, dove si incontrano i protagonisti di alcune delle scene dei film horror più famose della storia.